Ciao ragazzi, bentornati al canale dell'avvento. Oggi, 10 dicembre, vediamo che tiriamo fuori. Oggi leggiamo una storia. Mamma Natale. Mamma Natale. Lo scorso Natale stava per succedere un disastro. Una brutta mattina, era già passata la metà di dicembre, Babbo Natale si svegliò e si accorse che stava male. Ma proprio male. Per tutte le slitte, screva mamma Natale. Hai il viso pieno di macchie. Come farò a finire di preparare tutti quei regali da sola? Ma comunque è meglio che mi sbrighi, disse tra sé mamma Natale. Adesso devo dare da mangiare alle renne. Ma quando aprì la porta della stalla, vide qualcosa che la fece restare con tanto d'occhi. Anche le renne erano piene di macchie. Allora, deciso di dare agli animali un cucchiaio di medicina. E intanto, pensava a cosa c'era ancora da fare. Si mise il cappotto e uscì in giardino, accompagnata dai suoi animali. Durante la notte, insieme alla neve, erano cadute in giardino centinaia di lettere indirizzate a Babbo Natale. Mamma Natale e i suoi animali le raccolsero tutte quante. Mamma Natale lesse tutte le lettere e poi si rimboccò le maniche. C'erano ancora tanti regali da finire. Anche se le Babbo Natale avevano lavorato sodo per tutto l'anno. Anzi, per essere precisi, fin da Natale precedente. Per tutto il giorno, mamma Natale non fece altro che segare, tagliare, incollare, avvitare, cucire, dipingere. E alla fine era tutto pronto. Ma ad un tratto le venne un terribile dubbio. Senza le renne, come avrebbe fatto a consegnare i regali? Finché ad un certo punto, ho trovato! Esclamò. Trasformerò la bicicletta in una macchina volante. E l'aspirapolvere mi darà la spinta necessaria per il decollo. Poi si mise a cercare in cantina per vedere se c'erano altre cose che le potessero servire. Modificò l'aspirapolvere in modo che soffiasse fuori l'aria invece di aspirarla. Poi collegò il pedale al motore. Più forte si pedalava, più veloce si andava. Ecco fatto! Alla fine la macchina volante era pronta. E mamma Natale era molto contenta di sé. Mamma Natale attaccò a ogni regalo un bigliettino con il nome di chi lo doveva ricevere. Poi sistemò i regali nel cesto. Un paio erano davvero troppo grandi e crearono qualche problema. Alla fine indossò il mantello rosso con il cappuccio. Nessuno l'avrebbe riconosciuta. Fuori faceva molto freddo. Mamma Natale ripuli dalla neve un pezzo di sentiero e preparò la pista e il bigollo. Poi l'oca e la gallina cominciarono a sbattere le ali. Mentre lei pedalava più forte che poteva. E pedala, pedala, pedala! Alla fine la bicicletta si sollevò nell'aria della notte. Mamma Natale stava volando! E continuò a volare, a volare, finché non vide in lontananza una piccola città. Allora girò la bicicletta in quella direzione e atterrò sopra un tetto pieno di neve. Leggò una fune attorno al camino e si lasciassi volare dentro. Ma guarda, il mantello rosso, tutto sporco! Come farà Babbo Natale ad averlo sempre pulito? Mamma Natale continuò ad andare su e giù per i cammini per tutta la notte, finché anche l'ultimo regalo non fu consegnato e tutti i cesti non rimasero vuoti. Adesso poteva tornare a casa. Il viaggio sembrava non finire mai, ma alla fine vide una debole luce. Erano Babbo Natale le renne che le segnalavano alla strada di casa. Erano guariti, non avevano più le macchie. Non vedevo l'ora che tu tornassi, disse Babbo Natale. Vieni, sediti qui, mia cara, e togliti gli stivali. Adesso ti preparo un bel bagno caldo. Mamma Natale rimasa a sguazzare per un bel po'. Poi, quando si sentì ben riposata, scese in soggiorno. Lì c'era da aspettarla una magnifica sorpresa. Babbo Natale aveva preparato una colazione speciale, naturalmente con legali per tutti. Buon Natale! Ecco, oggi abbiamo finito. Ci vediamo domani. Ciao!